Estorsione e usura portano via, pezzo dopo pezzo, lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura, che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato. Chi sceglie trova lo Stato.